Tanto l'arlista russo Puntofranco si schiera contro la possibile rotatoria a pochi passi dallo stadio Grezzer in quanto opera che andrebbe a sorpassare il progetto del playground di Valmaura per il quale era stato coinvolto l'edil master quanto il consigliere comunale di Forza Italia Michele Babuder constata con amarezza lo stesso identico concetto. Dove c'è il murales dedicato a Svevo, proprio lì in quell'area doveva nascere uno spazio ricreativo dedicato a giovani ma anche agli anziani con la nascita di un campo di bolle tra le altre cose, degli spazi anche per i giochi da tavolo. Ebbene sembra che se questa rotatoria verrà realizzata, quest'area ricreativa evidentemente non potrà nascere. Avevamo proposto un emendamento al bilancio 2022 per stanziare delle risorse fresche per la realizzazione di questo intervento ma l'assessore Lodi ci aveva garantito che l'intervento era già coperto dalle manutenzioni ordinarie. Detto di cosa dovrebbe sorgere da progetto, la posizione sull'argomento è dunque bipartisan valorando la nobiltà dell'iniziativa che coniuga sport e giovani ma che però a quanto sembra sarà messo in cantina a favore della mobilità veicolare pedonale di Valmaura. Io non vi nascondo che sono rimasto male quando il sindaco l'altro giorno ha annunciato che potrebbe essere auspicabile la definizione di una nuova rotatoria in piazzale Valmaura. L'altro anno in realtà, un anno e mezzo fa, era stato accantonato anche in termini di distanziamento un importo per la realizzazione, lì sì, di una piccola area verde, di uno sfogo per i bambini per giocare con un campetto di basket, questo assieme che io avevo apprezzato e che dopo anni in cui sollecitavo l'eliminazione di un manifatto che era inutile mi veniva risposto qua ci saranno le biglietterie e adesso scopro che le biglietterie non ci saranno ma non ci sarà neanche il campetto.